Ave a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Matti Fragols 2.0. Oggi analizzeremo la terza parte della seconda trilogia legata appunto ai popoli del mare, Shardana parte 6, e in particolare vedremo le vere origini del popolo sardo. In che senso mi direte voi? Cioè ridiamo la vera discendenza a questo popolo che ha riunito l'Italia e senza il quale il mondo non sarebbe lo stesso. Andiamo per ordine e cominciamo a rivedere quelle conoscenze basilari per poi costruire una nuova pagina della nostra storia. Vediamo quindi dove si collocavano tutti, e dico proprio tutti, i popoli del mare. Noi conosciamo appunto gli Shardana, i popoli che possiamo dire gli stavano attorno, li nominiamo. Ma oggi li andiamo proprio a vedere. Analizziamo tutti quanti. Partendo appunto dalla nostra Sardegna. I sardi, gli eraclidi possiamo dire, un popolo antico quanto misterioso, che in questi sei video abbiamo visto alla grande. Sappiamo molto di questi Shardana. La scrittura, cosa pensavano, cosa costruivano e come lo costruivano. Vicino a loro c'erano appunto gli Shekelesh, oppure gli Shakalata, come li chiamavano gli Egizi. Erano i Siculi, i Siciliani possiamo dire, l'altra grande isola del nostro paese. Scacciarono i Sicani, e questa è proprio storia approvata. Poi, sopra la Sardegna, c'è quella isola, possiamo dire, che è appunto la Corsica. E lì si stanziarono i Wachasha, i Wescei, i Corsi. Erano poco conosciuti, ma hanno molte cose in comune con i sardi. Soprattutto all'inizio della loro storia, quando appunto c'era il culto della roccia, i Betilo, possiamo dire. A estremo nord c'erano i Shaksar, i Sassoni, e i Tuata de Danam, cioè altre popolazioni sempre stanziate al nord, che facevano parte dei popoli del mare. Nell'Italia penisolare c'erano i Tuscia, gli Etruschi, possiamo dire. All'inizio, prima della nascita della civiltà etrusca, c'erano i Tuscia. E hanno cose in comune con tutti gli altri popoli del mare, come vedremo in questo video. E sono molto importanti per la storia del nostro paese, come quella del mondo, possiamo dire. In Grecia, o Nebu, vi ricordate, dal primo video, Iakuasha, cioè Iachei, quelli che, possiamo dire, hanno dato origine alla guerra di Troia. A Rodi c'erano i Danen, i Danai, i Danuna, che erano molto enigmatici come popoli del mare, abitatori delle isole del Settentrione rispetto all'Egitto, vicino a O Nebu. C'erano i Liku, marinai provetti, antenati dei Liguri, forse. Infatti adesso vediamo qual è il rapporto tra Anatolia e Liguria. Poi c'erano i Libu, i Libici, in Cirenaica, i Peleset, che conosciamo, appunto, abbiamo distinto tra Filistei biblici e Peleset in generale, cioè guerrieri distruttori provenienti dal mare. E poi c'erano i Techer, i Teucri, sempre identificati tra i popoli del mare. Questi fantastici popoli, che ormai fanno parte, proprio nel profondo di questo canale YouTube. Ma secondo voi, questi popoli del mare, sono sempre stati lì? Oppure, prima, siccome sono molto simili tra loro, erano un unico popolo? E oggi andiamo a scoprire proprio questo. Torniamo molto indietro nel tempo. Quando, nella Bibbia, si parla di diluvio universale, di cui non parla solo la Bibbia. Abbiamo visto l'epopea di Gilgamesh, gli Egizi, le tribù africane, ne parlano di questo grande diluvio avvenuto molto tempo fa. E una civiltà con cui i Sumeri avevano rapporti, cioè quella dell'Indo. Qua, basta unire i concetti con la logica, e si vede che non ne sono stati tanti eventi diversi, ma un unico evento che ha colpito tutte le civiltà. Potrebbe essere una cosa omogenea a quella che è successa in Sardegna, durante il collasso dell'età del bronzo, provocato da un terremoto marino o da un meteorite, che stavolta è caduto nell'oceano indiano. Di questo ne parleremo poi anche con gli ebrei. Andando avanti, per il nostro percorso, il libro della Genesi nomina, indovinate chi, i popoli del mare tra i discendenti di Sem, Cam e Japheth, i figli di Noè. Eccolo qui, vi ho preso io il pezzettino della Genesi, Genesi 10, 1 a 5. Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Japheth, ai quali nacquero figli dopo il diluvio. I figli di Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec e Tiras. I figli di Gomer, Askenaz, Rifat e Togarmah. I figli di Javan, e tenete d'occhio questi, Elisa, Tarsis, se vi ricorda qualcosa, quelli di Cifro e Rodi. Da questi discesero le popolazioni disperse per le isole nei loro territori, ciascuno secondo la propria lingua e secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni. Questo pezzo della Genesi vi fa capire che all'inizio i popoli del mare erano un unico popolo, che successivamente si è diviso. Molti popoli discendono dagli abitanti della Mesopotamia. Quando si saranno separati, appunto, se una volta erano uniti? Ricordiamo la vicenda di Abramo? Mo dice, questo, mo che va a finire ad Abramo, cosa c'entra? Cosa fece Abramo? Ricordiamolo. Il quale, dopo essere uscito da Ur, migrò in cerca di una terra promessa, accompagnato dagli abitanti della città. Questo evento biblico non è una leggenda, perché effettivamente una migrazione c'è stata e come. Abramo era, come possiamo dire, il patriarca degli ebrei, che prima però non erano ebrei, lo sono diventati dopo. Erano abitanti di Ur. E in questo caso lo scrittore Leonardo Melis li chiama giustamente Urim, cioè abitanti di Ur. Durante il regno di Sargon, 2300 a.C. circa, siccome questo invase i territori sumeri, scombussolò quello che era l'organizzazione politica del tempo. E quindi cominciò una crisi economica, perché si passava da città-stato e indipendenti a un vero e proprio impero, un'entità nazionale. Il primo di tutta la storia, e l'abbiamo visto. Questa crisi durò fino al 2000 a.C. Quando a un certo punto questi popoli non ce l'hanno fatta più, hanno detto, bene, ce ne andiamo. E da qui nacque la leggenda di Abramo. Ma cosa c'entrano i popoli del mare? E adesso lo vediamo. Perché insieme ad Abramo, gli abitanti della città, oltre a quelli che poi avrebbero formato le dodici tribù di Israele, ce n'erano molti altri, che formarono i popoli del mare. Qua io vi ho creato una mappa, per farvi capire bene come D'Aur, gli Urim, sono andati a finire nel Mediterraneo. E quindi adesso facciamo, da qui in avanti, una specie di cronologia di cose che abbiamo detto in episodi precedenti e di cose nuove. La cronologia dei popoli del mare. Sappiamo dai testi biblici che Abramo arrivò ad Aran. Qui avviene la prima separazione. Possiamo dire le prime tre separazioni. Dice sempre la Bibbia che Abramo proseguì verso sud, appunto nella terra di Canaan. Un altro gruppo, di cui non si nomina il nome, si stanziò poco lontano da quelle terre. Iliku o ilukka. Una popolazione del mare che abbiamo visto, appunto, nelle dipositive precedenti. E un altro gruppo migrò verso terre ignote, a nord. I lukka si stanziarono lì, in Lidia, in Anatolia, per essere molto precisi. Mentre questo altro gruppo proseguì verso nord. Poi superò lo stretto dei Dardanelli e salì ancora di più. E avvenne una terza separazione, possiamo dire. Alcuni andarono verso il Danubbio, i Danubbiani. Alcuni proseguirono a estremo nord. E altri invece si stanziarono nell'attuale Polonia, i Saksar, i Sassoni. Salendo verso nord, trovarono, appunto, il mare. E essendo esperti i navigatori, solcarono verso l'ignoto. Trovando, appunto, delle terre fertili dove si stanziarono. Quelli erano i Tuata de Dana. Vedete questa duplice separazione? che fa tornare le due consonanti di N. Danubbiani, Danubbio, Dardanelli, Tuata de Dana. E adesso vediamo che c'è un collegamento. Tornando ai nostri, e ricollegandoci al video precedente, Iurim, delle dodici tribù di Israele, assieme ad altri, si stanziarono nella terra di Canaan. E ci rimasero. Questi qui non erano molto d'accordo con quello che era il culto di Abramo. E lo dice anche la Bibbia. La tribù di Dan era quella molto numerosa dei Popoli del Mare. E adesso dopo la andiamo a vedere. Ecco il collegamento di cui vi parlo dal primo video della seconda trilogia. E la scrittura che è stata inventata a Ur e poi successivamente alfabetizzata a Canaan dai Popoli del Mare. Eccola qui. La tribù di Dan si separò. Una parte rimase a Canaan e un'altra proseguì verso il Mediterraneo. Ecco perché gli Shardana e i Sardi tutt'oggi hanno parole che derivano dalla lingua sumera e accadica. Perché provengono proprio da quella nazione. Peleset e Danen si stanziarono a Creta a Rodi e a Cipro. Iacahuascia Iachei si stanziarono in Grecia. Gli altri proseguirono verso Malta dove ritroviamo molte somiglianze agli Shardana soprattutto nella costruzione megalitica. Una parte andò verso i Libu un'altra i Shakalasa un'altra verso la nostra cara Sardegna e un'altra ancora verso Iwasascia dai quali sempre in quell'epoca discesero molte popolazioni. Avete visto la vera origine del popolo sardo? Che possiamo finalmente dire biblica? Andiamo avanti. Dal 2000 a.C. passiamo agli eventi che hanno condizionato la Sardegna e la storia dell'uomo. I primi nuraghi compaiono in Sardegna nel 1750 a.C. circa e l'abbiamo visto tutti i tipi di costruzione nuragica. ricordiamo colleghiandoci al video dei nuraghi che dall'Armenia molto molto prima nel 4000 a.C. quelli del vaso campaniforme arrivarono in Sardegna e allora popolazioni locali più vaso campaniforme crearono le prime culture della Sardegna pre-nuragica arrivarono i veri e propri popoli del mare e crearono l'entità nazionale Sarda gli Sardegna 50 anni dopo l'impero Sardegna comincia la colonizzazione nel 700 a.C. tra il 1650 e il 1600 a.C. circa in Anatolia compaiono gli Ettiti l'impero Ettita comincia a conquistare territori nell'attuale Turchia dando fastidio ai cugini degli Sardegna i Liku allora sempre perché una migrazione è sinonimo di crisi ancora oggi e lo possiamo constatare dove volete una parte dei Lucca emigra verso occidente e qui ci sono delle cronache latine cioè romane che dicono che i Sardi appellantur cioè questi popoli chiesero ai Sardi se potevano andare nell'attuale Italia stanziarsi vicino a loro i Sardi accettarono perché era una parte del loro impero gli diedero una certa autonomia in cambio dell'entrare nel cosiddetto circolo dei popoli del mare gli Akawasha si organizzano nello stato miceneo più o meno nella stessa epoca un evento mastodontico che come possiamo dire stermina la civiltà minoica a Creta e provoca appunto l'emigrazione di Peleset e Teucri verso la Palestina nel 1527 avanti Cristo a Terra Santorini attuale erutta il vulcano e quindi il primo cambiamento dei popoli del mare lo vediamo proprio qui nel 1480 avanti Cristo Ascepuz e Tutmonti III nominano gli Shardana per la prima volta nella stele che abbiamo anche tradotto e analizzato nel primo video su questi fantastici popoli nel 1385 avanti Cristo siccome si trovano gli scritti cioè scrittura sarda molto simile sempre a nord gli Shardana raggiungono il Malbattico e il mare del nord commerciando con i loro parenti i Tuata Dedana e i Saxar nel frattempo in Mesopotamia Assiria raggiunge il Medio Regno e Babilonia è sotto il dominio Cassita siamo molto vicini a un particolare evento che ha condizionato la storia dell'uomo esatto il collasso dell'età del bronzo migrazione per fuga e per invasione ricapitolando nella storia dei popoli del mare abbiamo visto due migrazioni quella per colonizzazione fatta nel 2000 avanti Cristo per espandere e fuggire dalla crisi del Mesopotamia esopotamia e un'altra che è questa qui di cui abbiamo parlato in tutti i video il collasso dell'età del bronzo nel 1276 secondo alcuni e nel 1286 avanti Cristo secondo altri avviene la battaglia di Kadesh dove le guardie dell'esercito egizio sono presidiate dagli Shardana e da tutti i popoli del mare che permettono all'antico Egitto una forte vittoria contro gli Titi e comincia appunto la crisi anatolica possiamo dire il patto tra Egizi e Ittiti è stipulato e Kadesh entra a far parte dell'impero delle piramidi non è tutto rose e fiori ed è un gioco di parole perché nel 1200 avanti Cristo circa iniziò una forte siccità nel Mediterraneo meridionale orientale provocata dalle forti tempeste invernali sui Pirenei e sulle Alpi in che senso? quando fa freddo durante un periodo nel quale non doveva fare freddo mettiamo il caso l'estate appunto si scombussola tutto le tempeste invernali sui Pirenei e sulle Alpi nell'estate primavera del 1200 avanti Cristo creano una superiore siccità quella che ci doveva essere in estate nel Mediterraneo meridionale e orientale provocando l'inizio dell'età del bronzo finale cioè il collasso delle civiltà Brian Sagan ha dimostrato che dei giacimenti del polline possiamo dire perciò non è tutto rose e fiori quella era il gioco di parole hanno dimostrato che non c'era abbastanza impollinazione e siccome le api hanno anche bisogno delle proliferazioni di questi fiori cominciò uno scombussolamento totale del Mediterraneo che provocò il collasso dell'età del bronzo parleremo sicuramente di questo collasso un'altra volta e vi consiglio anche di andare da Tatiana e Diego due youtuber fantastici che parlano molto bene di questo fenomeno collegandolo anche agli antichi alieni collochiamo poi tra il 1194 e il 1184 avanti di Cristo la famosissima guerra di Troia l'ira funesta ricordate? e poi ritorniamo a noi 1178 avanti Cristo un terremoto un vulcano oppure un meteorite provocano uno tsunami che colpisce l'intero Campidano e provoca la migrazione degli Chardana una parte verso nord e altre due si separano avviene una scissione quelle che si salvarono dall'inondazione una va verso sud e un'altra va verso nord gli Chardana possiamo dire erano i capi dei popoli del mare e quando si colpisce la capitale di un impero cade tutto ed è proprio così che è successo nel 1200 avanti Cristo i quali costringono i Tuscia gli Etruschi che abitavano appunto in Toscana possiamo dire a emigrare verso oriente e a dare origine a delle popolazioni che modificarono l'assetto del mondo e poi questo lo vediamo successivamente i Tuscia accompagnati da alcuni Chardana cominciano a scendere verso l'Albania attuale dove c'erano i Dori una popolazione molto famosa per quello che fece successivamente a questa invasione ecco come si collegano i concetti infatti i Dori invasero la Grecia Micenea nel 1170 avanti Cristo e posero fine al governo che c'era lì iniziando the Dark Age i secoli bui che poi successivamente daranno origine alla civiltà greca arrivati lì i Tuscia continuarono il loro cammino in una terra pacifica l'isola di Lemno dove rimasero fino a data da riprendere possiamo dire una data molto successiva che confonderà le menti degli storici attuali continuando la nostra storia la parte invece degli Chardana che andarono a sud invasero i Siculi i Shekelesh i Sheakalasa che a sua volta colpirono le popolazioni che c'erano a Creta attaccarono l'impero Etita ed entrarono stabilizzando la situazione ed invadendo quella regione della Palestina una parte dei popoli del mare di cui ancora non abbiamo precisamente capito il nome arriva in Assiria e combatte contro questo popolo sotto il nome secondo le cronache Assire di Musci vediamo cosa succede successivamente entriamo nella Palestina ebraica per vedere il collegamento tra i popoli Chardana il nome di un popolo di principi e giudici quando la Sardegna è stata colpita da quel cataclisma gli Chardana seguite dalla maggior parte dei popoli del mare si è riversata sul vicino oriente creando appunto la leggenda di questi ultimi dei popoli del mare gli Chardana avevano già colonie mercantili in Canaan dovuti alla loro vera origine del 2000 avanti Cristo che abbiamo visto come la stessa Bibbia scrive Abramo condusse nella terra promessa un gruppo di persone divise in 12 tribù le famose tribù di Israele di cui vi parlavo prima Ruben Simeone Levi Giuda Dan Neftali Gad Aser Isaac Zabulon Giuseppe e Beniamino e Beniamino dai quali questi ultimi due discesero Gesù e Maria Maddalena la tribù che avebbe dato origine alla Stipper Shardana era quella di Dan la quale secondo la Bibbia si divise svariate volte per avere una discendenza molto estesa esattamente come vi avevo già spiegato io e grazie alla Bibbia posso avere un sostegno un'ulteriore prova di questo evento è il nome dei popoli discesi da questa tribù che come dice la Bibbia abitava sulle navi vi ho messo una cartina di come nel 1200 avanti Cristo fino all'800 900 avanti Cristo circa gli Shardana e Shakalasa e il Tiekier e il Peleset abitarono quella parte di terra posso scrivere quelle cose naturalmente perché si sono trovate delle similitudini tra le ceramiche della patria Shardana Shakalasa Tiekier e Peleset e qui che sono tali e quali se li andate a vedere ritornando a quell'assonanza Shardana è il nome appunto di questo fantastico popolo è l'unione indovinate un po' di due parole donate all'Egitto dagli stessi ovvero Shr che significa principi e Dan ovvero tribù di Dan che a sua volta significa giudici infatti il simbolo della tribù di Dan oltre al serpente è la bilancia ecco perché i sardi venivano chiamati giudici giudiches in sardo del Mediterraneo oppure principi di Dan come il libro di Leonardo Melis andatevelo a leggere molte cose sono anche simili alle sue Tuata de Dana la popolazione leggendaria che colonizzò il nord antenata dei vichinghi e piccola curiosità quelli che vediamo rappresentati al nord ce l'ho con gli archeobuoni possiamo dire non sono i vichinghi quelli con gli elmi con le corna ma pensi i popoli del mare i Tuata de Dana o gli Shardana che dir si voglia i vichinghi sono discendenti di loro e non hanno mai portato le corna piccola curiosità per tutti che dopo il 1200 a.C. fu invasa dai cugini i Saxar i Sassoni abbiamo anche detto adesso lo andiamo a vedere i quali si scontrarono poi con i Romani fino al Vallo di Adriano troviamo dn dan anche in toponimi come Danubio Danimarca oppure nelle altre popolazioni come i Danai Achei e i Danuni vediamo sempre di più la parentela tra i popoli del mare adesso rimanendo in tema ebraico torniamo un pochino indietro prima del collasso dell'età del bronzo durante uno degli imperi magnifici che ha modificato la storia dell'umanità l'antico Egitto vedremo i Ramessidi sotto una nuova prospettiva dopo la restaurazione voluta dal generale colpista Orembeb tutte queste notizie storiche le vedremo anche quando parlerò degli egiziani nei video sulla grande affascinante storia dell'uomo urgiva mettere sul trono un nuovo faraone da cui derivare un'altra denastia perché voi ancora non lo sapete poi lo scopriremo con i video sull'antico Egitto c'era stato Akenaton Amenhofe IV nome dei geroglifici che aveva cambiato lo stile religioso egiziano da politeista a monoteista e indovinate un po' il dio della fertilità del sesso maschile Aton non è quello che pensate voi infatti alla fine Amenhofe IV decise di creare il primo monoteismo della storia dell'uomo che appunto aveva come dio principale Aton non confondete Aton con Amon perché Amon è il dio della fertilità del sesso maschile che si puse poi con Ra Aton è un nuovo dio introdotto possiamo dire portato ai libri alla storia da Akhenaton da Akhenaton comunque mandato via lui Akhenaton e la sua famiglia tra i quali il famosissimo Tutankhamon bisognava eleggere un nuovo faraone ma la dinastia precedente era stata sterminata e allora da dove lo prendiamo? fu individuato un soldato di valore comandante dell'esercito e generale dei mercenari Ciardana Libu e Tieker il generale dei mercenari è stato eletto e portato agli allori come faraone Decitto Nesù Bt colui che regna sul giunco e sull'ape cose che poi vedremo il nome di questo generale era appunto Ramessu nome sardo e in geroglifici Ramses primo che regnò pochissimo dal 1292 al 1291 avanti Cristo lasciando subito il regno al figlio Seti di cui abbiamo molto parlato nei video precedenti Seti era un soldato di valore cresciuto al fianco del padre fra i mercenari e aveva avuto un figlio da giovane Neb Casset che provava pena per quei martiri che morivano invocando il loro unico dio indovinate chi sono un dio d'amore che impediva loro di ribellarsi alle persecuzioni volute già da tempo Neb Casset provava pena per gli ebrei forse influenzati sia dalla precedente monarchia di Akhenaton che aveva l'unico dio come principale divinità e anche unica divinità sia loro che provenivano appunto dalla palestina quindi gli ebrei sappiamo la loro storia no l'interesse del giovane principe per la religione bandita dal paese era pericoloso immaginate l'erede al trono d'Egitto che provava pena per degli schiavi pensate un po' voi neb casette era molto diverso da suo fratello che poi scoprirete chi è questo fratello aveva anche saputo della delegazione di gente venuta dalle isole del verde grande da cui appunto anche la sua famiglia discendeva sappiamo che questo principe andò dal padre che forse lo approvava siccome neb casette era stato designato da seti come suo erede siccome è anche il primo genito io l'ha detto al padre non sapendo che suo fratello lo denunciò esatto la storia ha tradito questo povero principe nessuno in quella terra dei soldati chardana avrebbe mai perseguitato un suo simile perché adorava un'altra divinità e così neb casette o adesso ormai possiamo chiamarlo tranquillamente mosè fu costretto all'esilio dal suo fratellastro ramses secondo che sfruttava quei poveri schiavi per costruire la sua città ideale piramesse fu costretto all'esilio con tutti i suoi compagni assieme ai quali arrivò in canan terra sciardana è molto pesante come informazione mi direte voi e allora trovarlo nelle acque del fiume Nilo quella è soltanto un'acquisizione biblica della leggenda di sargon secondo o sargon primo ancora non sappiamo di preciso perché non viene precisato soltanto sargon possiamo dire colui che ha fatto migrare gli sciardana verso la sardegna e capirete meglio in questo video il senso Mosè non era altro che il figlio di Seti il quale fu costretto all'esilio e si portò con lui anche indovinate chi gli ebrei le piaghe d'Egitto sono sempre delle acquisizioni bibliche di eventi realmente accaduti in momenti diversi della storia poi lo vedremo anche con la storia d'Egitto ritornando a quello stile di studio capiamo innanzitutto chi erano i primi fenici io non parlo dei fenici del quinto secolo avanti cristo ma di quelli che non erano fenici del novecento ottocento avanti cristo a distanza nordica i sassoni cominciano a invadere dopo la fine del collasso dell'età del bronzo ituata e si stanziano appunto in inghilterra quando a un certo punto cominciò l'espansione dell'impero assiro che innanzitutto si liberò del impero ittita che lo premeva e quindi non lo poteva far espandere al suo meglio l'impero egiziano era proprio sotto controllo anche se gli egizi non lo dicono dei popoli del mare e allora possiamo capire che l'impero assiro conquistò tutto in grecia si stanziò e si creò possiamo dire con un gergo molto più preciso la polis cioè l'organizzazione che rimase fino ai tempi di alessandro magno i popoli del mare allora spinti sia dall'impero assiro sia perché ormai la crisi era finita erano passati trecento anni se ne tornarono a casa loro i sciardano tornarono in sardegna assieme a molti altri popoli a creta se ne insediarono altri i libu i sciacalasa e altri nel frattempo i tuscia che erano rimasti in toscana andarono avanti e crearono la civiltà etrusca che vediamo in particolare tra poco non erano fenici quelli che tra il novecento e l'ottocento avanti cristo arrivarono in sardegna è normale proprio perché questi popoli del mare si insediarono durante il collato dell'età del bronzo in palestina dobbiamo la conoscenza avanzata sempre di questi fenici della porpora che i greci chiamavano non i fenici ma i popoli del mare quelli che commerciavano la porpora popolo rosso questa denominazione come possiamo dire si staccò dai popoli del mare e fu data appunto ai popoli della palestina perché a un certo punto i greci non vedevano le stesse persone a commerciare con loro tra il novecento e l'ottocento avanti cristo alla fine dei dark age vedono questi popoli del mare poi a un certo punto i popoli del mare se ne tornano a casa loro e vedono i fenici i veri e propri fenici nel quinto secolo avanti cristo che con l'autonomia data dai persiani di Ciro il grande di Dario e di tutti gli altri possono vivere felici e commerciare con il Mediterraneo volete una prova veramente tangibile che entra nella vostra vita tutti i giorni che questi non erano fenici adesso i scetti ci diranno trovami una cosa che è talmente famosa che questi popoli sarebbero appunto popoli del mare Shardana Shekeles Libu e Peleset e non i fenici i fenici per citazione prima dell'enfasi non colonizzavano le colonie feniche fenice della fenicia erano colonie mercantili i fenici dalla loro terra natale non come i greci che i greci la la magna grecia che possiamo dire è l'Italia il sud dell'Italia colonizzavano e creavano una nuova città stato no a parte cartagine per i fenici questi qua arrivavano in una città esistente possiamo dire e dicevano noi siamo i fenici veniamo da la lontana terra che ne dite se creiamo un'alleanza commerciale in cui ci date come possiamo dire le vostre merci e noi rimaniamo senza attaccare che poi i fenici non erano un popolo guerriero lo sappiamo anche dalle poche armi trovate in giro per le colonie fenice e allora questi sardi che tornarono appunto in Sardegna avevano il pieno controllo delle loro città Sulcis Tarros Nora e tutte le altre città erano diventate metà in metà cioè venivano influenzate dai fenici ma non erano fenice erano Sardana Cartagine i punici invase quei territori quando i fenici piano piano con l'ellenismo cominciarono a scomparire e lì vediamo che i nuragici cominciano a combattere con i punici perché dicono no questa terra è mia e infatti poi vedremo non prima qual è la cosa famosa un caro amico che si chiama Enea scappò dalla guerra di Troia fin qua niente di strano sappiamo quello che fece dall'Eneide scritta da Virgilio sotto il buon Augusto come divergeva Dante e allora se la guerra di Troia è finita nel 1184 avanti Cristo data storicamente accettata anche dagli archiobuoni come cavolo ha fatto a metterci 300 anni ad arrivare a Cartagine e mi direte voi in che senso 300 anni Cartagine è stata fondata nell'814 avanti Cristo da alcuni popoli misteriosi sempre qua per non entrare troppo e dire che sono stati sempre i popoli del mare diciamo dei fenici che sono emigrati appunto e hanno fondato Cartagine semplicemente non è possibile posso capire che leggenda ma fino a un certo punto inoltre qui vicino a dove sto io c'è l'Avinium sia un museo che una vecchia città compresa poi Alba Longa dove l'Eron di Enea la tomba per chi non lo sa di Enea è datata 800 avanti Cristo quindi o Enea ha vissuto 400 anni oppure Enea vero e proprio venne successivamente vogliamo dire la verità? i sardi i sardi i scekeles i tuscia e tutti gli altri emigrano durante il collasso dell'età del bronzo avviene la guerra di Troia nel frattempo? perfetto alcuni si stanziano qui in Anatolia dopo aver distrutto l'impero Etita finita la carestia la crisi Enea possiamo dire che forse non si chiamerà Enea aveva un altro nome però comunque una persona che guidò le persone sue amiche verso una nuova terra una nuova speranza c'è stata e qui appunto arriva a Cartagine dove ci sono le vicende con Didone e poi se ne va verso il Lazio e poi darà origine alla stirpe romana questa unione tra Grecia e Roma è stata proprio voluta per chi va al liceo classico ma penso anche allo scientifico che studia la letteratura latina in quel periodo durante l'età di Augusto avvenne una vera e propria come possiamo dire volontà di unire Grecia a Roma per dare delle origini mitiche a una città che era altrettanto mitica e a questo punto c'è questa forzatura 300 anni cancellati praticamente ma noi adesso l'abbiamo spiegati quindi Ulisse Enea e tutti gli altri le cosiddette storie dei Nostoi in greco sempre liceo classico cioè ritorni tornare a casa non sono altro che tornare dei popoli del mare alle loro terre madri non c'è altra spiegazione l'Iliu Persis che in greco significa caduta di Ilio Ilio la città cioè Troia vede i popoli del mare come protagonisti tornando all'Italia c'è una questione quella etrusca che oggi risolveremo con i popoli del mare questi tusci dai latini sono sempre stati una popolazione misteriosa le cui origini sono sotterrate dalle sabbie del tempo solo però per chi non crede agli sciardana sardi e alle vicende dei popoli del mare sapete perché alcuni scienziati non dico io non dico storici non dico archeologi ma scienziati applicando un'analisi del DNA mitocondriale hanno scoperto che questa popolazione ha affinità con i popoli del vicino oriente e in particolare guarda un po' il caso in Anatolia dove si stanziarono con i lucca per poi emigrare e l'abbiamo visto tornate indietro per capirlo meglio con il video quando i tusci arrivarono in Toscana si mischiarono con i popoli tosco-umbri e diedero origine alla civiltà villanoviana che quando finì diede origine alla civiltà etrusca vera e propria nel novecento avanti Cristo guarda un po' il caso piccolo passo indietro quando gli sciardana cominciarono il collasto dell'età del bronzo i tuscia furono costretti a emigrare alcuni andarono verso nord e rimasero lì creando i reti dove ci troviamo l'alfabeto molto simile a quello etrusco un altro pezzo di questa tribù possiamo dire continuò verso l'Albania dove ci sono molte parole nell'albanese moderno che tali e quali ha l'etrusco e poi alla fine nell'isola di Lemno dove troviamo la famosa stella di Lemno che vede scrittura etrusca ma con espressione greca e questo poi lo rivedremo non solo si arriva a capire che non conosciamo molte cose di questo periodo il collasto dell'età del bronzo che mutò la storia dell'umanità perché senza questi popoli del mare gli assiri non si sarebbero potuti espandere poi Babilonia e le vicende della Persia contro la Grecia non sarebbero mai avvenute senza la guerra di Troia non sarebbe nata Roma e tutto quello che conosciamo sarebbe cambiato quindi ringraziamo i popoli del mare perché sono molto importanti ma molti appunto nemmeno capiscono il motivo per quale non lo sappiamo allora in particolare i popoli del mare sono fantastici ma perché non se ne parla mai? è questa la domanda che rispondiamo perché non si parla dei popoli del mare? me lo hanno chiesto anche i miei parenti quindi lo dico come esperienza personale perché questi Shardana non li nomina mai nessuno? perché non sono messi nei libri di storia? molti scettici dicono che non si trovano qui proprio perché non sono importanti ma noi abbiamo dimostrato che sono importanti fino alla fine del 1800 non se ne parla ma mi sono drogato io? oppure oppure i geroglifici egizi che sono quelli che parlano degli Shardana sono stati traducibili soltanto successivamente alla stella di Rosetta? e allora ci credo è normale che cominciamo a sentire parlare a quell'epoca perché prima quei simboli dove c'era scritto abitanti delle terre a nord stranieri provenienti dal mare non erano non erano che una corona un'aquila degli elmi e delle onde ci credo inoltre non c'è bisogno di andare all'antico Egitto per trovare i popoli del mare e gli Shardana gli amici greci danno un sacco di appellativi a questi popoli tra i quali eraclidai ovvero eraclidi discendenti di Ercole dietro le colonne d'Ercole quindi un'altra prova della Sardegna uguale Atlantide e Tirrenia o Tirrenia a dirsi voglia Tursenoi cioè costruttori di torri da cui appunto vediamo la somiglianza con Tursa Tuscia vedete che ritorna sempre e poi quella più utilizzata Pelasgoi cioè Pelasgi abitanti delle isole e più diretti di così non si può essere durante l'epoca Mussoliniana 1920 1940 si parlava dei possibili collegamenti tra Sardi e Abramo che abbiamo visto all'inizio video ma lo stesso Duce Benito Mussolini fermò le ricerche perché era come avvicinare il popolo italiano agli ebrei che il suo alleato Adolf Hitler perseguitava tanto immaginate che gli italiani discendevano dagli ebrei immaginate immaginate ma ve lo faccio capire qual è il problema c'è stata una come possiamo dire rivista che veniva venduta negli anni 40 dal 38 quando furono approvate le leggi razziali leggi della difesa della razza che catalogavano tutti i popoli del mondo tra quelli semiti e non semiti perseguitabili e non il popolo sardo è stato messo tra i non semiti non c'erano le analisi scientifiche ma noi adesso sappiamo e anche loro gli italiani gli storici di quel periodo lo sapevano che discendevano da loro e quindi gira questo come possiamo dire meme Mussolini spaventato gli sciardana sono sardi meglio non faglio sapere a Hitler ci credo se no ti ammazzano dopo la seconda guerra mondiale le ricerche ricominciarono e l'istituto luce quello che pure riprese vincere vinceremo intraprese i numerosi scavi subacquei dove trovò città palesemente pelasgiche queste non sono parole mie questa qui questa frase ma degli storici archeologi che trovarono le rovine in quel periodo vicino alla Sardegna una in particolare a largo di Nora come a far capire Atlantide Campidano Caralis oltre che a disotterrare molti nuraghi quindi a dare soldi a quelli che volevano fare questa grande impresa vedete la verità che esiste bisogna solo trovarla questo filmato la sovrintendenza ma anche l'istituto dei lincei se lo tiene stretto perché non lo vuole dare a qualcuno io se un giorno riuscirò a prendere questo video lo metterò sul canale perché è molto importante far vedere che i Sardi erano Shardana e che Atlantide era molto vicino a noi o almeno la Tirrenite quindi ragazzi anche se è stata una fantastica avventura questo video giunge al termine grazie dell'ascolto fine della sesta parte Shardana parte 6 oppure della terza parte della seconda trilogia legata appunto a questi fantastici pop questa presentazione è mia condividete e spolliciate per il momento almeno che voi non me lo chiediate gli Shardana se ne parla tra un po' cominceremo i video sulla storia dell'uomo adesso e poi scoprirete anche che civiltà spero che vi sia piaciuto e ricordate che i popoli del mare sono molto importanti trovate tutti i video compreso questo nella grande rivelazione di Shardana Sardi noi ci vediamo in un mio prossimo video ciao ragazzi